ciao a tutti i tuoi ascoltatori e chi si aggiungerà anche dopo visto che ci stanno anche i miei ovviamente guarda Angela poi stiamo in diretta sulle piattaforme YouTube Facebook e Instagram la cosa interessante che io e te già ci conosciamo da un po' di tempo perché un paio d'anni fa abbiamo fatto una conferenza con il pubblico abbiamo invitato tutti i nostri clienti e tu sei stata splendida nel spiegare questo Reiki in ospedale ci piacerebbe a che punto siamo arrivati con anche questa epidemia coronavirus la gente perché tutti quanti in ospedale sembrano tutti quanti malati di coronavirus ma non è vero ci sono tante persone che si trovano non è così raccontici qualche cosa in questo momento allora io in realtà in questo momento non sto andando a fare volontariato in ospedale perché praticamente però magari prima dobbiamo spiegare a chi ci ascolta che cos'è questo Reiki apro una piccola parola che si può magari parliamo più distintamente è una tecnica energetica di origine giapponese tipo la pranoterapia si poggiano le mani semplicemente senza torsione manipolazione quanto altro e si trasmette energia molto simile alla pranoterapia però non si dà la propria energia ma l'energia universale io questa tecnica energetica l'ho conosciuta diversi anni fa quando sono stata operata la testa per un tumore benigno per fortuna e poi in seguito avendo visto che su di me funzionava allora ho frequentato i corsi di primo e secondo livello direi che l'ho portato in ospedale come volontariato proprio dove sono stata operata quindi neurochirurgia del San Filippo Neri di Roma sono 5 anni che presto volontariato lì fino a marzo ovviamente perché poi mi sono dovuta fermare visto il covid il reparto di neurochirurgia è praticamente diciamo strapieno quindi oltre essere diciamo pazienti proprio del reparto stesso neurochirurgia ci sono pazienti di altri due reparti perché un altro bottiglione del San Filippo Neri è diventato reparto covid quindi è chiaro che io insomma li devo mettere le mani sulle persone mi devo avvicinare non è il momento di fare queste tecniche su di loro ma è qualcosa di veramente fantastico perché è apprezzatissimo anche da infermieri e neurochirurghi che l'hanno provato da me e quindi niente insomma dimmi tu cosa vuoi che ti racconti in particolare va bene per la gente io ho notato nel tuo canale youtube che adesso vediamo un attimo faremo vedere eccolo qui perfetto c'è un video che dura 15 minuti sì io nella descrizione tua ho messo questo link e la gente al limite con calma lo potrà visionare per vedere come spieghi molto molto bene questa questa tecnica esatto in effetti io mi ricordo con Manuela anche lei che ha avuto da fare con te sì un'operazione è stata aiutata moltissimo è vero due anni due anni fa sì quindi ci sei rimasta nel cuore ma anche voi infatti vi pensavo poi ma dico ma è tanto che non li vedono e non li sentono quindi perché poi io sono abituata comunque con tantissimi pazienti dell'ospedale poi di rimanere in contatto ma anche persone che poi in realtà non sono di Roma per esempio c'è una paziente che è venuta a Roma cinque anni fa erano due o tre mesi che facevo volontariato quindi ero proprio cinque anni adesso in pratica è stata operata per un aneurisma e le ho mandato anche Reiki a distanza quando è tornata giù in Sicilia perché ha affrontato un intervento proprio per un tumore pure al seno quindi e poi lei addirittura è venuta a Roma appositamente per me quando è uscito il mio libro proprio Reiki il dono che è quello proprio che parla di questa mia esperienza in ospedale e addirittura ha letto un pezzetto che la riguarda quindi proprio leggeva se stessa è stato bellissimo perché insomma sì all'epoca di due anni fa quando abbiamo fatto quella riunione presentavi proprio questo libro sì perché poi è uscito tre mesi dopo quindi eccolo lì insomma sono due anni e so che ha un grande successo ragazzi iscrivetevi al canale di Angela e comprate il suo libro che è fantastico per le persone che necessitano di questa tecnica potrete trovare tutto quanto sul canale di Angela il link specifico di 15 minuti lo potrete visionare con calma e che cosa possiamo dire di più Angela adesso che sono riapparsi non solamente i malati di covid ma anche gli altri perché tanti trattamenti sono stati interrotti pensa interrotti anche alla chemioterapia adesso è un disastro d'accordo però noi ci tiriamo su le maniche ci diamo da fare e queste conferenze che stiamo facendo servono veramente per questo perché la gente ha paura in questo momento e dobbiamo dare fiducia a noi stessi e alle persone come te che ci aiutano a superare dei momenti difficili della nostra vita è vero perché il reggae in particolare fa molto bene le persone in stato di ansia e stress che è la cosa più caratteristica diciamo così purtroppo di questo periodo e quindi ricevere un trattamento reghi in momenti particolari come questo aiuta tantissimo perché c'è veramente bisogno di andare avanti e quindi non focalizzarsi sulla paura che cosa succede poi con la paura perché in questo momento purtroppo si abbassano le difese immunitarie e abbassandosi le difese immunitarie c'è più pericolo purtroppo di incontrare malattie in generale poi adesso c'è il covid quindi è ancora meno indicato far abbassare le proprie difese immunitarie quindi il benessere in assoluto riequilibrare le energie permette di essere più forti e di stare meglio guarda c'è qualche utente in facebook che ti ringrazia per il tuo beneficio grazie a chi mi ascolta perché comunque è per me importantissimo diffondere la conoscenza del Reiki perché in Italia a differenza del resto del mondo si conosce molto poco io per esempio averlo portato in ospedale sono una persona proprio diciamo una perla rara in questo senso nel campo perché non ci riesce praticamente nessuno perché i medici sono molto scetti e quindi invece per fortuna dove so io hanno appurato che fa bene soprattutto alle persone che devono essere operate perché torniamo al discorso ansia stress maure eccetera e quindi quando io do Reiki alle persone che stanno lì in ospedale prevalentemente danno la precedenza a chi deve essere operato poi ovviamente come sa bene Emanuela se sono ancora in ospedale quando io torno la settimana successiva perché io vado due giorni di seguito volta a settimana e lo ricevono ovviamente anche dopo l'intervento ma insomma la precedenza viene fatta a chi deve operarsi fantastico allora concludendo questa intervista perché oggi io personalmente ho una maratona con un sacco di persone da Torino alla Sicilia da intervistare proprio perché la domenica ci riposiamo un attimo perché durante la settimana non ce l'aspettavamo nella parruccheria a proposito noi ci siamo lasciati in un altro negozio ti ricordo che stiamo in via Massacciuccoli 23 quartiere afriano e ti faremo il prossimo taglio te lo faremo con Manuela e ti faremo bellissimo perché tu hai un taglio particolarissimo molto particolare e ho sofferto a molto a proposito del covid perché voi magari ve li fiorate tra voi i capelli io invece stavo in condizioni pessime sì sì concludendo che che invito vuoi dare alle persone che necessitano del tuo servizio potete contattare Angela nei numeri del canale o contattarla direttamente per informazioni esatto perché per informazioni soprattutto sul video poi alla fine c'è il mio sito internet c'è la mia email c'è tutto quindi basta guardare il video e alla fine avete tutte le informazioni c'è il mio bigliettino da visita c'è tutto perfetto perciò appena guardate il video intanto vi rendete conto di che cosa si tratta lo spiego molto velocemente perché quello che dico lì in un quarto d'ora in realtà lo spiego in un'ora un'ora e mezza e tu sai benissimo Francesco che ci ho messo quel tempo per spiegare un po' tutto anche perché poi c'è l'interazione con le persone che fanno domande eccetera io lì l'ho fatto volutamente breve in realtà un po' però non gli ho delle persone perché poi sai i video lunghi poi le persone si stancano a vederle un po' perché comunque ho così la possibilità di fare anche video specifici su determinati punti di quel video stesso per approfondire insomma magari video di 5 minuti su una cosa su un'altra e si può sviscerare di più l'argomento perfetto perfetto io ti ringrazio del tuo intervento ti ho disturbato da ieri è stato un piacere siamo stati rapidi perché so che adesso a mezzogiorno hai un appuntamento terapeutico e allora ti ho costretta a farti vedere poi al limite o con un po' più di calma se ci saranno delle novità rifaremo un intervento informativo alle persone che ci seguono d'accordo perché no al limite la prossima volta che ti riendiamo in diretta il tuo libro tienilo in mano e parleremo del tuo libro ok va benissimo ti ringrazio e ci vediamo alla prossima buona domenica a tutti grazie ciao 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 Ciao.